È quella di domani la domenica più attesa dell'anno. Con la sfilata di ieri sera, la pesa e la cena di oggi, la 92esima edizione del Palio del Golfo è decisamente entrata nel vivo. Domani, domenica 6 agosto, il momento clou. La nostra diretta avrà inizio intorno alle 16.15, a fare da palcoscenico all'evento lo specchio acqueo di passeggiata Morin. Alle 17 la gara femminile, alle 18 quella junior e alle 19.30 il Palio del Golfo, preceduto dal defilamento delle imbarcazioni e dalla lettura solenne della disfida. La sera, alle 22.30, lo spettacolo pirotecnico. Per quanto riguarda le misure viabilistiche necessarie a garantire il regolare svolgimento della manifestazione, permane il divieto di fermata con rimozione veicolare in Viale Italia, tra Via Diaz e Via 20 Settembre. Istituito inoltre il divieto di fermata su tutta l'area di sosta, fronte all'imbarco per Palmaria e Porto Venere. Divieto di sosta previsto anche nel tratto terminale di Via 20 Settembre, tra Via 24 Maggio e Viale Italia, dove verrà invece riservata la sosta ai veicoli a due ruote sino alle ore 24. Dalle 14 sino dopo la mezzanotte, divieto di transito in Viale Italia, nel tratto compreso tra Via San Cipriano e Piazza Chiodo. Per agevolare gli spostamenti nella notte del Palio sarà istituito un servizio di bus navetta gratuito che partirà dai parcheggi di interscambio di Via del Cappelletto e del parcheggio del Palasport in Via Carducci. Il servizio sarà attivo dalle 18 a mezzanotte e mezza del giorno seguente.